Sono Baraghinini Gianluca, il presidente della Magdrey Technology S.P.A. Siamo qui al Geofluid, anche noi. In questo momento ci troviamo nel stand esterno dove rappresentiamo le macchine da pali e la nuova macchina da jet grouting fino a 40 metri. E poi abbiamo all'interno un altro stand dove abbiamo le macchine di piccola perforazione. Le novità che presentiamo qui all'esterno sono la macchina da pali da 16.000 kg di coppia e una macchina da jet grouting fino a 40 metri di profondità. All'interno accogliamo la clientela, riceviamo i clienti dall'estero. Il Geofluid ci dà questa opportunità. Abbiamo diversi rappresentanti che ci vengono a far visita per vedere le novità che stiamo esponendo tra i quali siamo molto presenti in Russia, in Brasile e in altri stati. Per qualsiasi informazione potete trovare tutte le nostre referenze nel nostro sito che è www.mdtspa.it e il personale della sede di Parma sarà pronta ad accogliervi per qualsiasi informazione. Grazie. Grazie. Grazie.